Questa SVA ti sorprenderà. Credetemi ragazzi, dovete assolutamente provarla. È praticamente un laser e distrugge a qualsiasi distanza su Warzone. Come vedrete nel gameplay che vi lascerò a seguire, dove mi faccio 21 pompe su Rebirth Tile. Così vedrete voi stessi come va. Ma prima vi lascio la migliore configurazione che dovrete usare. Allora ragazzi, importantissimo, per far sì che sia un laser dovremo usare l'ottica jack senza vetro e la volata spegni fiamma compensato Z35. Con questi due accessori non avrete praticamente le coil. Poi ci metteremo la canna di precisione STV, le munizioni colpi grammatura elevata e il caricatore da 60 colpi. Bene ragazzi, adesso vi lascio con questa bella vittoria su Rebirth con 21 pompe. Mi raccomando, non perdetevela. Spero sia di vostro credimento. Un bel like al video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi per essere sempre aggiornati su Warzone. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Sì, sono davanti a me. Sì, sono davanti a me. Fatto uno. Fatto due. Ci sono stato sul tetto volando forse. E' quello su un boccione. Sì, sì, su un tetto se c'è su un boccione. Non mi carichi da una grazia. Non ho capito? Buon boccione. Sì, fatto un boccione. L'altro sotto di noi. Qua a destra. No c'è. Uno sotto ai bagni. Uno ai bagni. E' l'altro sulla armida. E' l'altro qua. Tutti tutti. Non c'è più colpi. Passati in un po' di noi, se c'è il lancio. Guarda che grego il posto. Siamo dove sono agli... Passati in un po' di noi. Vado da... no la casa torna al casetto arrivo l'idea l'italia un'altra cosa terra c'è il 3-2 qui scendo uno con me il wizard scendo uno con me un attimo mi sono bloccato il gioco non l'ho fatto qua da sotto adesso ma pure stronghold un altro un altro un altro un altro un altro un altro fuori control aspettate che c'è un radarino ve lo punto subito qua 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 tutti il radarino tutti il radarino vai cola rocke 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 ma scendono detto è bianco sta scappando tutti sopra gli altri l'ho fatto quanto l'altro ora non mi serve non mi serve non mi serve non mi carichi Di fronte eh, non è che sei di fronte No, nell'angolo, nell'angolo Aspetta, bro, dovevo dire diverso Mano? Eh, mi sono tirato eh Uno craccato, uno craccato Subito dietro, basta Un'altra Madonna, un'altra ancora Figato, no? Dai, questo non ci voleva proprio Un'altra ancora Un'altra ancora Un'altra ancora Un'altra ancora Tribunale Un'altra ancora Un'altra ancora Un'altra ancora C'è una cosa meno aspettami bro, c'ho gente sotto qua vai via, vai via, vai via vai via adesso, un altro tiro ha fatto uno ne manca no, non ho colpi per AR uno ne manca, un po' eh, ma io non ci occupo di mitraghetta vieni qua, vieni qua, scendi qua prendi qua, eh che cazzo che avevo fatto adesso? ok, andiamo c'è il tipo di casa grande? non mi sa che sei andato scendiamo qua, scendiamo qua l'ha arrestato? si è stato fuori di safe l'ha arrestato sui sui Sì, ragazzi, attaccato Ciao, mamma Tutto a posto, non ci sono io Ah, simpola, regà, simpola Oh, dietro di me Alla via d'extra vita